Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi realizzerò due versioni di makeup per San Valentino ovvero uno smokey nero con i toni del rosa quindi non sono particolari e poi una seconda versione un po' diversa quindi non uno smokey ma una palpebra piena con del rosa sempre per riprendere un po' San Valentino e questo di Essence che è un metal shock quindi aspettatevi una cosa un pochino più particolare e se vogliamo anche lo costo rispetto al trucco principale dello smokey che è realizzato praticamente con gli Urban Decay quindi di tanto economico, non c'è? però cosa dirvi? vi lascio al tutorial io inizio subito con le sopracciglia e utilizzo questa qui che è la Super Last 24 ore di Essence allora inizierei in versioni opposta nel senso che inizierei con il trucco con lo logo se lo sto capendo lo smokey però voglio farlo bene dopo quindi andiamo a disegnare le sopracciglia allora l'utilizzo di questa matita è particolare perché ovviamente non potete creare l'effetto del vero e proprio pelo finto come con un gel però per un trucco veloce e abbastanza naturale va bene così nel senso che proprio vedete è proprio proprio il cosiddetto effetto pomata cioè proprio di come neggiare no? e andiamo quindi a riempire tutti i miei solchi perché non sono buchi miei sono solchi in questo modo sono un pochino più spesse lo so ma è una cosa che poi si ritocca successivamente allora inizierei a questa matita anche un temperino però secondo me è uno spreco inutile sì che costa veramente una miseria però preferisco lavorarla io così che fargli fargli la punta farle la punta di guantino iniziano la crina a migli occhi inizia ad arrivare quel periodo dell'allergia già da febbraio purtroppo così ok vedete qua c'è purtroppo mi devo stare ben attenta come le disegno perché sono molto 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 asimmetriche quindi ovvero vedendomi praticamente struccata solo con le sopracciglia sembro meglio le storie tese però andiamo così a dare un po' una forma più o meno simile però siccome non mi sa metta conviene andare ad aggiungere vedete qua è molto più curvata conviene conviene andare ad aggiungere qui e occupare quel buchetto perché è proprio una questione mia di sopracciglia che sono disegnate male naturalmente quindi soltanto una questione di perfezionamento ok come fondotinta per una sera di San Valentino io userai una cosa un po' leggera a livello di proprio di fondo e io andrei a concentrare molto di più sugli occhi quindi come fondo poi andremo ad utilizzare non so se questo o questo credo la Cor Parfait questo qua è veramente troppo liquido ok quindi utilizzerò la Cor Parfait questo qua che ho io è il numero due non so neanche se la luce mi permette di farvi vedere cos'è sembra sporco ma vabbè è in 2N vaniglia come ci fu ma lo utilizzeremo dopo adesso ci concentriamo sugli occhietti santi allora per far esaltare al meglio io uso questo qui che è il primer bianco di NYX perché il premier potion che ho io è quello neutro quindi questo invece di questo qui bianco ovviamente diamo un tocco di intensità maggiore quindi io lo prelievo con una spatolina e lo lavoro un po' sulle dite lo vado ad applicare solo sulla paper mobile perché è qui che vogliamo incentrare il nostro make up sia lo smoky che l'altro quindi anche per entrambi i make up lo utilizzeremo allora vi dico che prima io faccio un make up occhi poi il fondo lo utilizzo in ugual modo per entrambi per entrambi i make up quindi per ora fondi interno la pieghiamo facciamo soltanto gli occhi allora iniziamo dall'altro make up vediamo la versione le due versioni o meglio utilizziamo un prodotto in comune che è questo qui che è il metal shock di essence lo utilizzeremo sulla palpebra mobile questo qui è il numero 03 galaxy rock che tanto non vedrete e poi come sfumatura possiamo utilizzare sia una che l'altra quindi su un occhio vi faccio vedere la Too Faced e sull'altra la NYX quindi la versione leggermente più economica quella un po' meno quindi iniziamo dalla Too Faced dove andremo ad utilizzare questo qui e questo qui per le sfumature lo so che in realtà la sfumatura per molte verrebbe fatta con un colore matto però qui nella lo facciamo di qua con l'altra allora vado a prendere Candid Peach che è questo rosino qui e lo vado a stendere sulla palpebra fissa con questo pennello di Essence che è tipo la vita ora vediamo se riesco a farvi vedere meglio l'occhio senza che la luce ci inganni così ci inganno ok la basso un po' allora così è un pochino di Just Peach che invece è questo qui che è un pochino più scuro è un pochino più glitterato però è molto meglio avere un occhio a me piace un sacco poi questa paletta ha un profumo veramente si è mantenuto nonostante sia quasi un anno che ce l'ho aperta poi una volta ho fatto questo prendiamo questo colore che non usa praticamente nessuno della Sweet Peach che è Talk Derby To Me che è un viola brillantinato molto scuro quasi tendente al blu e lo andiamo a posizionare qui nell'angolo esterno così e lo sfumiamo con questo qui in modo tale da uniformare il tutto purtroppo questo pennello qua è bello sì ma è anche tanto grosso quindi è più un po' più difficile da gestire la situazione e poi i colori scuri di Too Faced sono un po' una chiavica come si suol dire perché sono troppo duri troppo polverosi e poco scriventi rispetto invece ai più chiari tipo al rosa che sto usando vedete come è proprio la differenza e lo vado ad applicare praticamente c'è una doppia base per questo ombretto sia il primer che l'ombretto viola che ho usato dalla Sweet Peach e con lo stesso pennello della Sweet Peach che ho utilizzato per quel viola lo vado a stendere picchiettandolo perché comunque è un prodotto in crema quindi se lo tiriamo si infila tutto quanto nelle pieghe quindi come viene fare questo lavoro qui e picchiettarlo e eventualmente anche stratificarlo se vogliamo un risultato più più intenso tengo lo chiuso perché se lo apro mi si spiaccica tutto nella palpebra fissa quindi non mi sembra a caso ok e lo andiamo a picchiettare tra l'altro io tengo chiuso quest'occhio che è quello buono e con questo qua non ci vedo quindi la situazione è meravigliosa ok adesso sempre con questi pennelli l'ho fatto così a matitina come lo chiamo io andiamo a riprendere un po' del rosa della sfumatura e lo continuiamo nell'angolo una cosa molto leggera sarà appunto per continuare l'angolo interno e continuare la sfumatura qui perché si crea un po' di stacco per questo riprendiamo il peach pit di prima e iniziamo a sfumare il peach pit con il rosa quindi la base praticamente dell'ombretto in crema in questo modo andando a cercare di uniformarlo il più possibile quindi poi riprendiamo candy pitch i justy pitch che sono quei due rosini e andiamo ovviamente a sfumare sempre più chiaro all'interno dell'occhio così poi riprendiamo un peach qua e scuriamo un po' il fondo e poi così adesso poi imprendendo la sfumatura gigante cerchiamo di ci vorrebbe un po' piccolino però al momento sono quelli di riserva quindi ci facciamo andare bene quello che abbiamo ovviamente facendo prevalere un colore scuro sul chiaro lo stacco purtroppo volentieri un po' si vede io cerco ovviamente di sfumare al meglio ed è la parte forse un po' più noiosa per chi non è una grande amante del make up è forse la parte più più noiosa però se bella vuoi apparire ok più o meno ci siamo adesso cerchiamo di realizzare la stessa cosa più o meno similare con questa qui che è la luminux luminux 04 della ultimate quindi è sempre un caso di aprirla perché è durissimo ok e direi di fare un mix di questi qui di questi rosa per vedere un po' cosa ci esce con l'arancio e vediamo se riusciamo ad acchiappare un colore simile direi che ci siamo quasi ho mischiato praticamente per tenere un colore un po' più o meno simile ho mischiato quattro colori proprio con una punta proprio sfiorandoli perché questa qui questa palette qui solo che la sfiori da questo effetto e praticamente ho fatto questo arancione questo viola questo e questo sotto quindi ho fatto questa questi quattro qui e dare una sfumatura maggiore quindi come base invece utilizziamo questo viola qua che ovviamente è più scuro dell'altro un viola completamente diverso però poi si andrà a coprire ci serve solo come base violacea così e poi ci vediamo sopra il nostro metà sciocca e sempre con lo stesso pannello facciamo lo stesso identico procedimento di prima qua sembra che ce ne sia di meno ma lo stratifichiamo anche lui questo lo stendo leggermente più in su perché non ho lo stesso colore di là quindi ho paura che venga un viola troppo acceso però in questo modo adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto di là prendiamo un pochino del viola di questo qui battiamo un pochino l'eccesso e cerchiamo di proprio poco poco e cerchiamo appunto di sfumare e riprendo poi quel colore di prima che stanno virando a rosa praticamente quindi riprendiamo un pochino di arancione e sfumiamo in tutto prendiamo un pochino di arancione più scuro per far si che somigli più all'altro ma questo è proprio un pochino più rosa ma non importa aggiustiamo anche questo qua di qua così almeno ok e qui sfumiamo riprendiamo questi colori qua nella punta così e sfumiamo un pochino di viola e sfumiamo e un pochino di questo colore come ho fatto di là all'interno dell'occhio sempre tutto molto ben ben sfumato mi sembrano abbastanza similari come come sfumature forse questo tende più al rosa però non so questi vengono fatti con prodotti diversi qui andiamo sempre poi a sfumare e direi che non cosa aggiungere ovviamente un po' qua ok sul makeup occhi ci siamo a livello di cosbi poi prendo il super line fine di sephora che ha questa punta veramente sottile andiamo a fare la nostra riga di eyeliner che per la serie san valentino deve essere importante allora il modo in cui applico l'eyeliner per tipo tre quarti del mondo di youtube e di instagram può cagare però un po' ci devo prendere bene la mano un po' ormai ho preso il giro di farlo così anche se non è proprio corretto e penso che non ci sia cosa peggiore che mettere l'eyeliner a livello di difficoltà io lo metto un po' più così un po' più curvato e la stessa cosa facciamo di qua mi aggiusto un attimo la luce a mio favore se no non ci vedo poi non so voi ma come lo fate da un occhio non verrà mai uguale all'altro ma tipo mai un po' più all'insù a me piace più così che completamente diritto ma il gusto personale può fare anche schifo insomma così e come mascara io dovrei utilizzare il better than sex che ha una forma tipo di volume con questo scovolio con il mini size con questo con il mini scovolio così questo sono entrambi gli occhi diciamo che la versione economica era solo per la palette perché questo qui si è costato solo 10,90 euro credo perché non la mini size quindi va bene per entrambe le parti perché è too faced da questo lato e di là perché è la parte forse leggermente più low cost del make up perché la palette veniva a 19 no è più low cost c'è le cose di essence però ok così sono un po' sporcata ma appunto dico che il fondo di tinta la mettiamo alla fine poi come matita occhi uso questa qui di essence che è mignonne è l'extreme lasting 16 ore waterproof questa la metto nella lima interna fino a metà così che la vado a congiungere con l'eyeliner continuare un po' l'occhio io lo so già che mi cazzerete per l'eyeliner ma vi ripeto bisogna fare tanto 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 esercizio per l'eyeliner ma tanto comunque stessa cosa faccio di qua e poi con il nostro pennellino vado dalla parte a riprendere la sfumatura degli occhi quindi con i colori delle proprie palette quindi qua sto usando la ultimate di NYX la Luminux e vado a sfumare tutto sotto in questo modo e di qua prendo questi due qui e faccio la stessa identica cosa che ho fatto di qua così e per quanto riguarda la bocca avendo un trucco occhi abbastanza intenso quindi molto glitteroso ci mettiamo un nude come Black Book di NYX questo qui è un nude mattone quindi un rosato mattone io li applico senza matita per dare un effetto più naturale poi il rossetto rosso lo lo lasciamo allo smokey io purtroppo ho il lavoro superiore più piccolino quindi devo fare questo lavoro qui di sbordare e faccio sempre un danno ok quindi questo qui è Black Book che riprende un pochino questi toni qui quindi questa è la prima versione qua c'è ancora il bianco la prima versione ora applico la base e vi faccio vedere con l'effetto proprio finale il video è il make up più leggero quindi adesso vi lascio vi direi nel prossimo video con lo smokey quindi vedrete prima questo e poi lo smokey eyes in un altro video invece che non un unico così vi lascio la suspense per cui spero che questo make up sia piaciuto un po' più glow sugli occhi più tenue sulla bocca e anche sul viso mi piace parecchio quindi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e un commento ci vediamo al prossimo video un bacio gigante